Alguna matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro CiccioGamer89 Da come avete visto nel titolo Torna il Salsiccia Party Ed è il 3.0 Siamo arrivati al 3.0 perché è la terza edizione del Salsiccia Party Organizzato da me Che cos'è il Salsiccia Party? È un giorno dove ci incontriamo Dove mangiamo paglini con le salsicce a volontà Pepsi, Coca Cola, tè, acqua Tutto all in E ora vi dico come funziona Allora cercherò di essere il più chiaro possibile D'accordo? Come sapete già ho fatto altri Salsiccia Party E mano a mano che sono andato avanti Ho cercato sempre di migliorarmi Anche dai vostri feedback Ok Il costo del Salsiccia Party è rimasto sempre uguale a quello degli altri anni Cioè di 10 euro a persona Ora vi dirò dove andare a prendere i braccialetti Vi dirò tutto quanto con calma Abbiate pazienza forse in questo video vedete tanti tagli Quindi ci sarà questo Salsiccia Party D'accordo? Praticamente voi entrate Pagate questi 10 euro Già si possono acquistare i biglietti Dopo vi dirò dove E potete mangiare i panini con la salsiccia A volontà No stop D'accordo? Ho previsto 1000-1200 persone E sto prendendo 3000 salsicce Ovviamente non lo sto facendo da solo Mi sto facendo aiutare da tante persone L'organizzazione di questo Salsiccia Party è molto più complessa dell'altra volta Anche perché questa volta ci sarà un'ambulanza di primo soccorso Dove ci sarà un medico Un parametico Insomma ci sarà un'ambulanza Addetta a noi Nel circolo sportivo In più ci sarà anche la security Prenderò 5-6 belli grossi piazzati Per fare la sicurezza Ovviamente insieme a me ci dovrebbero essere Tanti altri youtuber Non vi dico adesso i nomi Perché non so se verranno o non verranno Comunque Mejoker ci trovate sicuramente Come vi ho detto Questa è la terza edizione E per chi già ha visto le altre vecchie Non si scherza C'è un raduno fatto come si deve Il raduno è a Roma Il 12 giugno Segnatevi questa data Perché a Roma Il 12 giugno In via Laurentina 1800 Cercherò di lasciarvi anche il link di Google Maps qui sotto Per capire dov'è Ci sarà il Salsiccia Party Il 12 giugno Se vado a vedere È Esattamente Gate Di venerdì L'8 finiscono le scuole Il 17 Ci sono gli esami per la quinta superiore Io ho detto Vabbè facciamolo il 12 Abbiamo più o meno 27 giorni Per comprare i biglietti Il fatto dei biglietti Statemi a sentire Nell'altro raduno Sono venute 700 persone Ho avuto problemi di spazio Alcuni non sono riusciti ad entrare Perché le prenotazioni erano sbagliate Non erano efficaci Questa volta Troverete i braccialetti Ora vi faccio vedere una cosa Ora vi faccio vedere una cosa Anche se non me l'ero preparata Ora vi faccio vedere Una cosa Aspettate eh Dov'è il Ecco l'ho trovato Grazie padri Come sempre Ok Eccomi qua Vi stavo dicendo Vi faccio un esempio I biglietti Questa volta Il logo Sono mille Mille braccialetti Che potete andare ad acquistare Già oggi Io vi consiglio di farlo Per non rimanere fuori Questo è un esempio Del biglietto Che vi verrà dato D'accordo Questi sono i biglietti D'accordo Ci avete presente I biglietti da discoteca Ok Questo È il biglietto Che vi verrà dato Questo ovviamente È un biglietto Che non verrà utilizzato Ce ne sono mille Sopra il biglietto Questa volta Ci sarà il timbro Di cicciochiemero 89 Che adesso Metto D'accordo Quando trovate il biglietto Con il timbro Salciccia party Cicciochiemero 89 Significa Che è un timbro Giusto È un timbro vero Ovviamente il colore Non sarà questo Ne trovate mille Vi consiglio Di andarli A prendere Adesso signori Cercate di andarci Con le famiglie Con mamma Con papà Andateli a prendere Per chi viene da fuori Perché io so Che ci sono tante famiglie Che vengono da fuori Di questo Io vi ringrazio Voglio ringraziare Anche i genitori Che portano i ragazzi Siete tantissimi Potete partire Dai 12 anni 11 anni Fine 27 30 40 anni Che mi seguite Questo per me È veramente Emozionante Veramente Mi piace tantissimo Per chi viene da fuori Questa volta Ci sarà l'opportunità Di prenotare I biglietti Tramite come Io vi darò Un numero di cellulare Che è di un responsabile Non è il mio Ovviamente È di un responsabile Che si occuperà Delle prenotazioni Ovviamente Le prenotazioni Saranno accettate Solamente Da chi vive Fuori Di Roma E dalle province Perché chi è Dalle province Di Roma È meglio Se li va a prendere Si fa una passeggiata E si li va a prendere Per chi è fuori Accettiamo le prenotazioni I biglietti In prenotazione Sono 300 Quindi 1000 Sono già lì 300 Sono da prenotare Quando Quando andrete a prendere Il braccialetto Dovete lasciare Nome Cognome Numero di cellulare E vi devono scrivere Il biglietto Che avete comprato Pagate direttamente Lì 10 euro Invece Per chi compra Online Chiederà L'email Della Paypal Dove si dovrà Ricaricare Dovete lasciare Nome e cognome Del proprietario Della Paypal Che ne so 7 biglietti 70 euro Salve Ho ricaricato 70 euro Sulla Paypal A nome di Mario Rossi E noi Vi togliamo I 7 biglietti Così ce l'avete E ci avete I biglietti Assicurati D'accordo Cos'altro dire Ovviamente Dato che comunque Ci saranno Ah Ok Come arrivare Come arrivare Vi garantisco Che questa volta Il posto È raggiungibile Al 100% Dalla stazione Metro Laurentina Che è raggiungibile Tranquillamente Da stazione Termini Dovete prendere O il 703 O il 703L Questi sono gli autobus Per chi viene in autobus D'accordo Invece Dall'autostrada Venite sicuramente Sul raccordo Da raccordo Uscite per la direzione Che vi serve Ovviamente Vi lascio Google Maps Qui sotto Cos'altro dire Al raduno Ci sarà Anche Un contest Non è Ufficiale Questo contest Nel senso Che ci metto Io una cosa Per conto mio Volevo mettere E questo deciderà Chi vincerà Ok Allora come sapete I numeri Sono numerati D'accordo Non si vedrà mai Questo numero Vabbè comunque Sono numerati Ogni braccialetto È numerato D'accordo Quando Al verso la fine Del raduno Ci sarà Un'estrazione Il vincitore A random Su queste 1000 1300 persone Potrà vincere O una Nintendo Wii U O un Xbox One O una Playstation 4 Quando vince Alza la mano Il braccialetto È quello giusto Viene da me Facci Io ho vinto E poi io Spedisco La console Facile Semplice È una cosa Che voglio fare Perché vi voglio ringraziare Poi ve l'ho detto Ci saranno le salcicce A volontà In più ci sarà Anche l'opportunità Di prendere Le patatine fritte Le patatine fritte Questa volta Non sono riuscito A implementarle Nel biglietto Perché ovviamente È un'organizzazione Differente Dato che Abbiamo preso L'ambulanza Abbiamo preso La security Insomma Gli addetti All'abbrace Vi giuro Che saranno tantissimi Ci saranno Anche i camerieri Quindi non ci saranno File interminabili Per prendersi Il proprio panino Con la salciccia Ve lo garantisco Giusto appunto I soldi che abbiamo speso Per questo Non li abbiamo investiti Nelle patatine Le patatine Costeranno Un euro a cartoccio Appunto Là Ci sarà il posto Ci saranno Le mie magliette Ci saranno Le magliette Di Joker Ci saranno Tanti altri Tutti ben invitati Chissà chi verrà Chissà chi non verrà Io spero di avervi detto tutto Quindi 12 giugno L'orario L'orario Ovviamente qui sotto Trovate tutte le info L'orario è Dalle 11 di mattina Fino alle 3 e mezza 4 del pomeriggio Perché una certa L'ambulanza Gli addetti Alla sicurezza Se ne vanno Prima che se ne vanno Dobbiamo svuotare Il posto D'accordo Ovviamente Il posto Ha tutte le certificazioni Che si possono avere Abbiamo tutto E di più Di quello che ci serve I posti sono 1300 Quindi io vi consiglio Vivamente Per non rimanere Senza biglietto Di andare a prenderli Subito D'accordo Andate a prenderli subito I biglietti Non vi li perdete Metteteveli da parte Mi raccomando Mi raccomando Mi favorebbe piacere Chi compra il braccialetto Se poi mi manda una foto Tramite facebook Tramite messaggio privato Su facebook Mi fa Ciccio Ma se ho fatto la foto Col braccialetto Mi manda la foto Col braccialetto Lui col braccialetto Non messo Non li mettete Poi vi li mettete poi Così Col braccialetto Tipo così Ok Mi farebbe piacere Poi magari vi implemento In un video E Ho detto tutto Eventualmente Dovesse piovere Eventualmente Dovesse piovere Potrebbe succedere Posticipiamo Il Salsiccia party Al giorno dopo O il giorno prima Vediamo Comunque Quello è Non vi preoccupate Ovviamente La location È un posto Tranquillissimo È un centro Sportivo Ci sono i campi Da calcio Campi da tennis Noi abbiamo Una zona incredibile Tutta nostra Vi farò vedere Anche qualche foto Ovviamente Il posto Verrà Rimodernizzato Organizzato Completamente Verranno tolti Tutti gli ostacoli Che ci sono davanti Non vi preoccupate Vedete Fa caldo Attenzione Ci stiamo sotto Una pineta Bellissima Quindi stiamo sotto Una pineta All'ombra Ragazzi Guardate Vi giuro Questa volta È organizzato Al meglio Sapete Più andiamo avanti E più lo organizzerò Sempre meglio Il salcicciaparti Sì Sì Ma se Io prendo il biglietto Poi non voglio Venire O c'è un problema Purtroppo non dipende Da noi Il biglietto Non viene rimborsato D'accordo D'accordo Signori Andate a prendere i biglietti Il prima possibile Perché così Aiutate l'organizzazione A procedere Aiutate me A procedere Vi darò delle info Man mano che andiamo avanti Non ci sono problemi Spero di aver detto tutto Se non ho detto tutto Vi farò un altro video Dove spiegherò Datemi una mano A divulgare questa cosa Cioè su facebook Condividete questo video E taggate gli amici Che secondo voi Vogliono venire a salcicciaparti Mi raccomando In più ci sarà Un'iniziativa davvero figa Ci avete presente Italia 1 Quando tutti fanno Italia 1 Lo faremo pure noi Lo faremo pure noi E andremo su Italia 1 Gli manderemo la clip E spero che ce la prenderanno Anche perché saremo tantissimi A urlarlo Quindi Ragazzi Le iniziative sono tante Non so se poi ci saranno Dei giochi Non lo so Vediamo come va strutturato Veramente Le griglie accese Saranno quasi 10 Si saranno 7 persone Addette alla griglia Ragazzi Veramente L'organizzazione È qualcosa di fantastico Speriamo che vada tutto bene Ok Andate a prendere i biglietti Già sono aperte le pronazioni Andatele a prendere ragazzi Poi non mi diteci Io non sono riuscito a entrare Vi prego Non me lo fate Perché poi a me mi dispiace D'accordo Quindi 1000 persone Possono prendere là Il braccialetto 300 ci sono le prenotazioni online Quindi Se dovete venire da fuori Sbrigatevi D'accordo Gli alberghi là vicino Ci dovrebbero stare Sono un po' lontanucci Tra virgolette per Roma Che Roma è grande Ma ci stanno E niente ragazzi Poi vi farò uscire altre info Non vi preoccupate E Fatemi sapere Qua sotto cosa ne pensate E Veramente Grazie Grazie di tutto Non volevo farlo Quest'anno Il Salsiccia Party 3.0 Perché Le responsabilità Sono tante Però poi Quando sono andato Alla tappa di Mortal Kombat Vi ho rivisto E mi sono divertito Da morire E lo voglio rifare Lo voglio rifare Assolutamente In più Sto aspettando Una nuova cosa Per Napoli E c'è una cosa Per Milano D'accordo? Gli altri poi cercherò di venire Ma se riuscite a venire A farvi un viaggetto a Roma Venite Vi passate una bella giornata Affidatevi Fate venire i genitori Stiamo tutti insieme Sti cacchi Pollice nel su Commentate Condividete Mi raccomando Andate a prendere i biglietti Prima possibile Anche oggi Domani Quando vi pare I biglietti stanno là Vi ho messo le immagini Mentre scorrevano E Bella